come al solito il giorno dopo di una partita del Milan è un po' come commentare la settimana prima di un incontro dei rossoneri perché perché la carta straccia i mezzi di distrazione di massa i giornalacci più venduti ovviamente che cosa volete che scrivano del Milan il Corriere della Sera il Milan vince in dieci il giornale il Milan senza leao soffre ma vince il gazzettino l'udinese non punce e il VAR salva il Milan il VAR salva il Milan la gazzetta interista dello sport un uomo in meno e leao non entra però vince Fonseca il Milan gode in dieci ma che polemica è tutto Juve Sport l'unico che un po' si salva in tutta questa carrellata di ipocrisia giornalistica Corriere dello sport si Milan la vince Fonseca ma non esiste nessun caso leao non cominciate il Milan ieri senza leao senza Teo sulla fascia sinistra ha dato più forza a quella destra che ha fatto vedere un Emerson in crescita che ha fatto vedere un Ciucueze in progresso e dalla parte sinistra con Terracciano ma anche con la sgroppata di Ocafor che ha portato poi al gol del Milan non è che hanno fatto chissà che cosa di male però bisogna punzecchiare il Milan e poi mi fanno sorridere cari udinesi razzisti che avete fatto gli ululati contro Mignon cosa che noi non abbiamo fatto né contro Cabasele né contro Tourette e non con più di mezza squadra di neri che avete in squadra meritate questa sconfitta perché siete degli ipocriti e siete entrati nel libro nero anche mio in questo momento perché per l'ennesima volta dopo che due anni quando aveva vinto lo scudetto tutti zitti e muti con il bagger due doge sull'1-1 giusto e adesso dobbiamo sentirci addirittura il vostro allenatore cioè che dice beh da una squadra come il Milan ci si aspettava molto di più non che giocasse così basso ma se per 70 minuti più recupero e arriviamo 80 ha giocato in 10 che cosa ti aspettavi quindi come sempre dovete sviare la verità e che la verità il Milan ieri vi ha messo le palle in bocca in 10 contro 11 per più di 70 minuti se anche tu sei d'accordo comincia a mettere subito un bel like e iniziamo tribù rossonera tribù di gente vera buona domenica 20 di ottobre a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista dunque milan udinese non poteva non lasciare strascichi di polemiche addirittura la cosa più imbarazzante arriva di quelli della squadra dell'interland milanese che nei commenti hanno detto l'abbiamo rubata cioè i ladri i ladri danno da noi che abbiamo rubato cioè loro i ladri numero uno d'italia parlano a noi che abbiamo rubato la partita ormai il mondo va al contrario ragazzi io lo dico da tempo è incredibile comunque un saluto a tutti gli iscritti gli abbonati del canale non iscritti non iscrivibili gli haters i trolls e tutti coloro che lo vedete anche nei commenti in basso a volte le stronzate che scrivono ma non bisogna cioè bisogna lasciarli per far capire che quelli di quella squadra là vanno solo per slogan non hanno un cervello per ragionare l'unica cosa che sanno fare è quella di puntare il dito verso fuori senza guardarsi dentro nonostante tutte le magagne che nella loro storia hanno fatto e sono stati gli unici impuniti quindi oggi adesso ascolteremo anche le le parole proprio del minister per analizzare la sua cinque minuti sono di conferenza post milan udinese però non posso non cominciare con parlare il pollicione su l'emesso vero queste cose devono essere automatiche però bisogna ricordarle perché so che ci sono quelli che sono in fissa così quindi pulisic mania nessuno come lui i numeri sono davvero incredibili questo giocatore ragazzi sono innamorato di cristian pulisic ovviamente calcisticamente parlando è il perno di questo milan è il vero fuori lo posso dire tranquillamente il vero fuori classe di questo milan un giocatore che fa la differenza un giocatore che soprattutto nei momenti di difficoltà è quello che come il vero leader in questo momento a parte mignon da dietro però il vero leader in campo che sa prendersi la squadra e portarsela con sé come così un bel fazzoletto venite insieme a me questo è cristian pulisic cristian pulisic sta avendo un impatto incredibile da quando è arrivato nel milan allo scorso anno una stagione veramente allucinante da quando è arrivato perché si sono raddoppiati i suoi numeri rispetto a quando giocava nel celsi piuttosto che quando era nel borussia una stagione iniziata alla grande davvero top player di questo milan un calciatore silenzioso non è uno di quelli stile lea o teo che fanno sempre parlare da social lui zitto cammina con un vero soldato rosso nero vero capitano america decisivo decisivo in tutte le giocate importanti di questo milan il più grande acquisto e qui mi voglio come si dice spaglia mojar mi voglio bagnare il più grande acquisto degli ultimi dieci anni del milan e proprio cristian pulisic e fammi sapere in basso se sei d'accordo anche con me anche ieri nel primo gol su una grande sgroppata che mi va di rimarcare di ocafor ha messo una palla che poteva tirare lui in porta invece anche lì il suo altruismo ha visto meglio posizionato ciucuese gli ha dato la palla per il gol vittoria di una partita davvero scandalosa a livello arbitrale ma soprattutto di var la cosa che io mi devo leggere veramente cioè che mi dice il gazzettino che mi scrive l'udinese non punge non punge e il var salva il milan il var salva il milan bisogna avere veramente un pelo sullo stomaco un coraggio davvero spettacolare solo un interista può scrivere una roba del genere perché cioè loro non capiscono un cazzo di calcio cioè tu già già stifano una squadra di merda nata da una cagata del milan del 1908 nata da una menzogna dicendo dobbiamo creare l'internazionale di milano perché noi non eravamo all'altezza di rappresentare milano quando l'unica squadra che se voi andate nel mondo dite qual è la squadra di milano milan perché inter c'era mio figlio l'altro giorno avevamo fatto la prova in un locale detto sai dove è inter una c'è risposta di roma ci siamo schiattati da ridere non sanno manco di dove è l'inter e loro vogliono portare avanti la milanesità vogliono portare avanti il fatto di essere siamo milano siamo noi che neanche nel loro nome c'è scritto milano e quando vanno all'estero devono mettere inter milan per far capire che sono di milano e noi neanche questo sono invidiosi sono nati secondi sono ossessionati dal fatto che sanno che siamo l'unica squadra di milano e hanno i loro giornalisti hanno tutto la loro bella cricca di potere che non fa altro che infangare l'unica vera squadra di milano l'unica squadra italiana conosciuta al mondo insieme alla juventus la juve per avere più titoli in italia e il milan per essere la squadra numero uno in europa nel mondo e questa cosa mi spiace ma solo loro si credono nel loro mondo di narnia certe nefandezze dunque tornando al nostro grande christian pulisic veramente anche in fase difensiva nel momento del bisogno è lì che aiuta la squadra numeri pazzeschi è l'unico che ha segnato già dieci gol è fornito undici assi sesto e compagni se confrontiamo i numeri con l'europa soltanto palmer ha preso parti a più reti di pulisic per l'inglese i numeri sono decisamente alti 28 gol 16 assist nessun giocatore ha preso parte attiva più reti lo statunitense in questo avvio di campionato io dico il gol di prima dice rispetto dall'anno scorso a quest'anno però da quest'anno cinque gol e tre assist otto in totale così come ha fatto turam nell'inter e retegui nell'atalanta numeri davvero da capogiro per il più grande giocatore del milan in questo momento che abbiamo in rosa e poi tornando di nuovo a questo discorso della polemica le a uno le a o il milan ha vinto come un gruppo compatto con una squadra che anche vedendo pavolo vicino insanguinato come un guerriero si è messo la fascia e ha continuato a combattere una squadra che ha visto un ciucuese che gli si stava gli stava tu re spezzando una caviglia si è rialzato in piedi nonostante si è vista anche la torsione e l'arbitro neanche in quell'occasione ha tirato fuori il cartellino giallo una squadra che ieri ha messo gli attributi veramente in campo e ha strameritato di vincere una partita 10 contro 11 come dei veri guerrieri dei veri gladiatori e allora ovviamente visto che questa cosa dà fastidio a quelli lì che sanno che siamo più forti infatti li abbiamo fatto un culo così nel derby quindi sono solo zitti noi siamo più forti dell'inter assolutamente in tutto e per tutto l'abbiamo dimostrato nel derby potevamo vincere 4 5 a 1 ormai i sei derby proprio sono cosa passata abbiamo dimostrato di essere superiori all'inter sul campo e non solo anche in queste occasioni dove il milan ha saputo soffrire e quindi al di là di poi le stronzate che scrivono perché vabbè l'interista è un tifoso che ovviamente di suo si dovrebbe solo vergognare di fare una squadra impunita nonostante la storia lo ha messo in tutte le salse che doveva pagare dazio più di una volta io vado giù pesante quest'anno perché ovviamente quello che ho visto ieri mi ha fatto girare letteralmente le palle perché se il milan non vinceva ieri vi giuro avrei fatto un macello che davvero rischiavo forte perché c'erano cose che mi hanno proprio toccato la fibra come si dice qua in spagna e quindi adesso ascolteremo le parole del del mister però che il milan abbia bisogno di leao che abbia bisogno di teo dei loro guizzi della loro corsa della catena di sinistra che quella più organizzata in questo milan non significa come altri giornalacci giornalisti hanno scritto che è una bocciatura per leao quello che diceva non so se voi probabilmente non seguite le analisi delle conferenze stampa del marietto quindi poi entrate in calo entrate alcuni a gamba tesa nel canale scrivendo le vostre idiozie ma ovviamente non penso sono milanisti perché un milanista che scrive robe del genere veramente mi farà caponare ancora peggio e quindi cosa diceva il mancato ingresso di leao no cioè pensate senza leao senza teo e il milan ha vinto ugualmente in 10 contro 11 ha vinto fonseca ragazzi ieri è stata la vittoria di paolo fonseca tanto bistrattato anche per delle decisioni prese contro la fiorentina ma ieri ha vinto lui quindi bisogna dirle queste cose ieri ha vinto paolo in panchina rafa in il teo squalificato ma in panchina pure tomori ebram dopo quello che era successo a firenze quindi anche se non dice è una forma di castigo una forma di castigo ma in nel bene della squadra perché allora tutti gli altri che si allenano regolarmente in maniera profonda anche durante le partite che cosa dovrebbero dire allora dice allora questi qua fanno quel cazzo che voglio e giocano sempre grande fonseca perché veramente a sto giro ha dimostrato di avere le palle quadrate bravo mi è piaciuto di brutto e quindi vedere un milan che non è assolutamente un leao dipendente è solo una buona notizia perché vuol dire che abbiamo più soluzioni ma io l'ho sempre detto che noi siamo la squadra più forte del campionato dategli il tempo a fonseca e io quante volte vi ho detto il discorso dell'attendismo il mister in conferenza di presentazione lo ripeto per i nuovi a giugno che cosa diceva c'è bisogno di tempo fino a metà settembre fine settembre per cominciare a vedere una parvenza del milan che io voglio un milan spettacolare un milan che giochi d'attacco tutto quanto ancora probabilmente non siamo arrivati a vedere quel tipo di milan che magari è nella sua testa il mister però molto si sta cominciando a avvicinare perlomeno per certe dinamiche soprattutto quella di non avere solo 11 giocatori o quelli che ruotavano 12 13 che dovrebbero essere i titolari indiscussi no tu entri se meriti tu giochi se meriti non perché ti chiami leao non perché ti chiami teo non perché ti chiami ebram non perché ti chiami tomori giocano chi giocano i giocatori che meritano e anche l'allenamento hanno dimostrato al mister che possono essere validi per partite toste come quella di ieri perché ricordiamoci che l'udinese se andate a prendere la classifica alla mano prima dell'incontro era a 13 punti se non sbaglio no o no o mi sto sbagliando era o era a 11 adesso ve la riprendo subito qua in diretta però era l'abbiamo scavalcato era sopra di noi e quindi 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 allora vediamo un attimo riprendo in mano la classifica così prima che mi prima che dico una cazzata non ho voglia di dire di dire cose che poi sono sciocchezze allora andiamo subito a vedere classifica live classifica di serie a allora intanto il napoli ha vinto 1 a 0 su calcio di rigore che va una scena non ho visto la partita quindi non mi so dire neanche se ha giocato bene ha giocato male non ne ho la più pallida idea in ogni caso il napoli adesso allungato ancora rimaniamo a 5 punti al napoli 19 la juve ieri ha vinto 1 a 0 contro la lazio nel finale il l'udinese era 13 esatto si era due punti sopra il milan e con la nostra vittoria abbiamo scavalcato quindi prima di questo match l'udinese praticamente era al quarto posto e se era dietro solo napoli juve inter quindi questo vi fa capire che è una squadra che ha iniziato benissimo quindi è una vittoria che dà ancora più risalto e più valore a questa a queste scelte che ha fatto in maniera coraggiosa ieri il nostro mister appunto fonseca poi dall'altra parte io credo che quando ci sono troppe critiche nei confronti del del milan attenzione fate attenzione io lo dico a voi da che banda vengono queste critiche perché normalmente sappiamo già da dove arrivano quindi fate attenzione anche su certi youtuber che io so che seguite perché ci sono youtuber che si dicono filo milanisti o milanisti che anche in questo caso trovano sempre la magagna trovano sempre il pelo nell'uovo senza davvero dare atto a una partita che il milan ha strameritato e soprattutto che poteva essere inguaiata per degli errori non solo di un kiff in campo che ormai veramente sembrava la brutta copia di quello che vedavamo fino a un anno e mezzo l'ultima volta che aveva arbitrato a milano ma soprattutto un sistema var che è meglio che lo tolgano perché tanto non serve un cazzo cioè se noi dobbiamo ogni domenica trovare degli errori da parte salavare cazzo sono in quattro ma io dico ma al momento che loro sono ma io infatti la chiamo la sala bar cioè in sala var che cazzo fanno ma me lo dite voi che cazzo fanno boh non lo so in ogni caso sentiamo le parole del mister prima di chiudere così abbiamo un quadro completo di tutto questo post del giorno dopo che ovviamente non potevano non polemizzare con il milan i mezzi di distrazione di massa coloro che non si sono mai chiesti dove zang non si sono mai chiesto del 31 per cento di lion rock che fino abbia fatto però sì sul milan sempre devono puntare il dito è stato importante perché abbiamo vinto e perché abbiamo fatto cose che per me sono importanti la partita per me ha avuto due parti una con 30 minuti in cui abbiamo giocato molto bene con grande qualità con grande personalità e dopo a una ora con meno un calciatore in cui la squadra ha dimostrato avere un grande spirito di gruppo per me questo è stato molto importante vedere la squadra sempre insieme a sacrificarsi il giocatore a sacrificarsi per la per la squadra e a soffrire anche insieme penso che qualche cosa che manca in questa squadra lavorare in squadra e oggi si ha qualche dubbio di chi la squadra non sta insieme non sta unito penso che oggi abbiamo dato una dimostrazione che che siamo tutti insieme anche i giocatori hanno entrato hanno dimostrato che sono qui pronti per sacrificarsi per la per la squadra sono stato molto molto importante ecco gli ha dato la prima frecciatina qua quelli che dicono la squadra come non seguono il mister è un gruppo disunito tutto quanto invece gli hanno dato la risposta che sono tutte cazzate e quello che c'era bisogno era semplicemente cercare una quadra un allenatore nuovo con un sistema di gioco nuovo con un tipo di preparazione nuova con uno staff nuovo dopo che il mila gli ultimi quattro anni e mezzo aveva un altro tipo di impostazione attraverso quello che c'era con stefano pioli quindi un allenatore nuovo deve portare porta delle idee nuove e porta anche un sistema non solo di gioco ma anche di allenamento differente nuovo e anche un sistema diverso essendo una persona come tutte le persone non siamo uguali uno all'altro quindi anche lui ha un modo di approcciarsi con i giocatori rispetto a quello che per esempio aveva avuto stefano pioli fino a maggio quando è stato nel minan quindi bisogna darle l'attenuante che ieri ripeto ribadisco è stata per me non solo la vittoria del gruppo ma soprattutto di paolo fonseca aspetta quello che diceva proprio adesso lei è una partita noi italia definiamo manifesto anche per coloro i quali magari hanno una qualità maggiore ma magari la mettono poco a disposizione il sacrificio nei confronti della squadra no io penso che è stata una partita difficile perché abbiamo giocato una ora come non giocato contro una bellissima squadra e la squadra i giocatori che erano in campo hanno dimostrato che ok dobbiamo soffrire insieme dobbiamo difendere insieme hanno giocatori che hanno fatto cosa incredibile io ho guardato Pulisic che ha tirato due volte al secondo palco con la testa io più che la qualità dei 30 minuti io devo valutare questo che è qualcosa che manca in questa squadra e che noi vogliamo per questa squadra soffrire insieme lavorare insieme difendere insieme questa squadra soffrire insieme lavorare insieme e non è un caso che abbia fatto proprio riferimento a Pulisic perché Pulisic io credo che in questo momento è proprio il collante grandissimo immenso da pallone d'oro per quanto mi riguarda quindi poi potete dire quel cazzo che volete ma per me è un giocatore da pallone d'oro io gli farei un contratto fino alla fine della sua carriera a Pulisic perché veramente un giocatore così è introvabile un ragazzo pulito sano un ragazzo serio un professionista capitano degli stati uniti capitano america mamma mia sono orgoglio infatti io mi prendo la maglia prendo la maglia di Pulisic quest'anno cioè mi ha convinto veramente che quest'anno mi prendo la maglia il milan con l'undici di Pulisic è il suo nome perché è il numero uno assoluto in questo momento non solo il milan non solo il campionato italiano ma mi avviso a livello mondiale cosa che le chiedo se ci fa un aggiornamento sulle condizioni quantomeno su su gabbia come mai non era neanche panchina è l'ultima so che è un argomento che ripetiamo da mesi fa un po impressione noi che seguiamo il milan d'anni non vedevamo leao per 90 minuti seduto in panchina e di gabbia ha avuto un piccolo problema ieri in polpaccio ha fatto un islam non c'è niente di speciale ma il giocatore non era confortato e noi abbiamo deciso perché adesso abbiamo tante parti dei gabbia sta in un buon momento abbiamo deciso insieme di non rischiare con con le situazioni di leao magari è strano per per voi non vedere non vedere rafa ma questo deve essere la normalità non è la normalità vedere leao in panchina e normalità quando io dico che per me lo più importante la squadra è più importante milan è più importante che qualche calciatore la squadra è più importante che qualche calciatore e oggi ho deciso di entrare con moca fuori ciucco magari domani entra nuovamente leao perché per me sono tutti importanti onestamente non dobbiamo creare un caso leao perché non c'è non c'è un'opzione il giocatore ha accettato ha rispettato ha arrivato al spolatoio con il compagno soddisfatto per la vittoria questo per me è lo più importante adesso preparo la prossima partita magari non è strano perché leao ritorna a giocare io penso che tutte le squadre tutte le squadre devono pensare così lo più importante la squadra più importante la squadra quindi non create un caso leao e invece l'hanno creato cioè ma caro il mio fonseca sono con te voi sapete che io sono uno dei pochi youtubers del milan o tifosi che voi conoscete nel web che non sono per gli out gli out sono parte di altri canali altri giornalisti o pseudotali o tifosi o pseudotali youtuber o pseudotali che vanno subito sull'out out fonseca out quando invece non è io non ho mai detto detto dobbiamo dargli il tempo vediamo e tutto quanto però se c'è la possibilità quando diciamo ottobre detto se il milan devi cambiare o cambia adesso o non cambi più ricorda siate onesti se mi conoscete se non avevo detto queste parole alla pausa dopo fiorentina milan subito dopo andatevi a riprendere i video tanto ci sono i video quindi vabbè non è che uno può sparare cazzate nel web tanto poi ti vengono a pescare uguale quindi è impossibile dire cioè se dico una cazzata voi dico perché cosa avevi detto due settimane prima quindi cosa avevo detto detto io non sono per fonseca out e c'era questo nome di sarri che girava e circolava ho detto milan se devi prendere una decisione la devi prendere adesso era tra lunedì e martedì ricordo adesso però se non la prendi adesso non la devi prendere mai più perché se poi dopo arriva la stessa storia a novembre dicembre così è ancora peggio perché poi il campionato già si è indirizzato in un modo e quindi devi dare una sterzata che poi diventa difficile diventerebbe un'agonia cosa che era successo ripeto lo scorso anno al napoli quando hanno fatto andare via spalletti per prendere rudy garcia poi hanno visto che le cose andavano è venuto mazzari la cosa è peggiorata e quando poi hanno cambiato anche mazzari con calzona la cosa è andata peggiorata ulteriormente e il napoli è concluso il campionato al decimo posto senza neanche entrare in conference league nonostante l'anno prima avesse vinto un campionato in maniera stratosferica quindi capite che in questo momento bisogna solo sostenere Fonseca senza pensare a un esonero cioè dobbiamo sostenere il mister bisogna essere compatti con la squadra col mister con i tifosi nonostante anche da fuori ci sia tutto un marasma anche mediatico che ci hanno voluto mettere in mezzo anche ieri è stato veramente indegno quello che è stato fatto da parte di magistrati diigos tutto quanto prima della partita cioè neanche un'ora due ore prima della partita hanno annunciato che non dovevano essere messi gli striscioni in curva sud questa cosa e poi tutti quanti ovviamente tutto lo stadio per solidarietà hanno messo tutti i striscioni girati ovviamente al contrario e vogliono creare sempre un clima ostile nei confronti del milan e questa cosa qua sinceramente se non ci sono io e pochi altri youtuber che difendono davvero il milanismo ragazzi purtroppo per voi mi va di dire al minuto 24 e 42 è difficilissimo che troviate coloro che sono veramente così con questo senso di appartenenza al milanismo come in questo canale Andrea Ramazzotti Sì ciao mister mi ricollegavo a quello che è stato chiesto proprio adesso su Leao ecco ieri avevi parlato di turnover chiaramente non accennando a questa decisione oggi l'hai messa in pratica ecco cosa ti aspetti se ti aspetti qualcosa di particolare dopo la panchina di oggi da parte di Leao ti aspetti una risposta a livello mentale una risposta sul campo ti aspetti qualcosa in particolare da lui? No che si adene bene che si prepara bene perché noi continuiamo a avere bisogno di Rafa ecco punto e hanno voluto mettere il piede nel ancora lo zampino no? Io sinceramente sono stanco di questi attacchi reiterati che vengono fatti al milan e dall'altra parte che sempre in un modo o nell'altro fanno passare tutto liscio come l'olio e quindi oggi in maniera forte se sei arrivato fino alla fine in maniera forte ti chiedo un hashtag io sto con Paolo Fonseca io sto con Paolo Fonseca sosteniamo il mister sosteniamo i ragazzi facciamo vedere che anche noi milanisti siamo una vera tribù siamo veramente ci teniamo al nostro Milan basta con ste stronzate dei cardinale out ma basta avete scassato la minchia voi che seguite quei cazzo di giornalisti e youtuberini del cazzo non vedete che ci stanno mettendo contro uno contro l'altro dovete tifare il milan non dovete pensare quei cazzo di cose quindi adesso c'è bisogno più che mai anche con gli attacchi mediatici costanti che abbiamo che facciamo vedere che siamo la squadra più importante al mondo italiana più importante al mondo e facciamolo capire che siamo i più grandi sostenitori della squadra italiana più importante al mondo e quindi sosteniamo il nostro mister io sto con Paolo Fonseca ci vediamo più tardi a un appuntamento nei miei altri due canali saggezza popolare oggi ci sarà un detto ti invito entra entra però ragazzi 646 iscritti saggezza popolare veramente fa capire che allora tutto il resto sono del del greggio no che che a voi quello che volete e non pensare non ragionare sulla vostra vita cioè voi se vivete in maniera superficiale allora vi devo dire che siete come quelli lì cioè se non ti se tu milanista che per me sei una persona intelligente non ti iscrivi in saggezza popolare che il mio terzo canale allora mi sa che ti posso dare dell'interista cioè perché vuol dire che non ragioni vuol dire che sei un bauscia pure te invece noi milanisti dobbiamo far vedere che siamo superiore anche in questo e che ragioniamo anche sulla nostra vita bisogna fare un proprio un salto in alto anche da questo punto di vista e oggi vi 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 narrerò di una di un proverbio secondo me importante chi non muore si rivede e che dove poi parte parlerò proprio dello zombificio che esiste in questo moderno dello zombie moderno ho chiamato zombie ing anche un nuovo termine attuale moderno di come poi lo capirete lo capirete stasera verso le sette ma non finisce qua perché alle cinque e mezza gioca milan futuro contro il legnago e promolto probabilmente farò una live reaction anche post partita perché nelle ultime due settimane purtroppo coincideva con lunedì del processo di rosso nero e quindi mentre faceva il processo stava giocando la squadra e non c'è abbiamo dovuto vivere in diretta certe dinamiche quindi ci sarà milan futuro legnago e poi speciale del domenicale nell'altro canale la tribù nel pallone perché esce fuori il nome di arno vi ricordate qualche anno fa quando anch'io mi faccio sostenitore arno compra il milan ebbene sì invece a sto giro arno e red bull si uniscono puntando su paris fc praticamente una sfida all'altro colosso del paris saint germain e chi la vincerà secondo voi oggi spiegherò tutto nella tribù nel pallone quindi mi raccomando come vedete coloro che sono abbonati al canale da soli 0 99 stanno contribuendo a tre canali grandissimi come la tribù rossonera tribù nel pallone e saggezza popolare canali di valore canali dove si dice la verità però se voi volete la menzogna allora questo non è il canale che fa per te te lo posso assicurare e perché c'è purtroppo nella 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 grande fogna c'è l'aperto che c'è nel tubo trovare tre canali come questi davvero è un regalo sono dei tesori che voi trovate quindi io ringrazio tutti gli abbonati che da soli 0 99 o anche con paypal conto corrente bancario tanti di voi ogni mese tic tac lascia un euro 5 euro liberamente liberamente qua nessuno obbliga perché io non sono come lo stato italiano che vi ruba 7 euro al mese dalla vostra bolletta della luce per il canone rai che magari neanche cagate visto che è un una mafia anche quella no e poi danno dei pirati a coloro che guardano le partite con il pezzò tutto quanto quando loro sono i primi che vi tolgono dei soldi non solo lì perché poi ci sono anche se dovessimo ragionare su discorsi molto molto più ampi anche dalla benzina addirittura de accise dell'epoca del ventennio cose assurde e poi parlano a noi che siamo dei cazzari che parlano di pezzotto dei pirati quando i primi pirati i primi mafiosi sono proprio loro e quindi qua noi come sempre facciamo cadere questo velo di illusioni per dirvi per dirti la verità quindi se anche tu sei su questa linea non solo metti il pollicione sei iscritto al canale sei abbonato al canale e soprattutto importantissimo condividi ovunque comunque questo genere di contenuto alla faccia di tutti coloro degli haters dei troll dei dissingari che ovviamente se parlano male di questa tribù gli ritornerà tutto indietro all'ennesima potenza un bacio alle amiche un forte abbraccio a tutti gli amici sempre forza milan ovunque comunque dalla tribù rossonera ti auguro una felice domenica e noi ci sentiamo in giornata per prossimi appuntamenti anche sugli altri miei canali ciao